Musica Ben ritrovati con il Tg Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi parlando del presidio di studenti e attivisti che questa mattina si sono riuniti di fronte alla sede della protezione civile di Marghera proprio durante lo svolgimento del consueto punto stampa del presidente del Veneto Luca Zaia. Nel giro di poco tempo per allentare la tensione sono intervenuti gli agenti della polizia in tenuta antisommossa. Erano già sul luogo da alcune ore per cinturare l'ingresso della sala conferenze. Non ci sentiamo minimamente considerati e non viene fatto assolutamente nulla per cercare di garantire la nostra sicurezza nonostante i problemi siano evidenti, spiegano i manifestanti, che specificano Alla riapertura delle scuole gli autobus non sono stati aumentati causando inevitabili assembramenti. Chiediamo di essere ascoltati e soprattutto che vengano fatti investimenti che ci permettano di ritornare a scuola serenamente e senza mettere a rischio la nostra salute. E nel corso della conferenza che nel frattempo continuava, Zaia ha riferito che nelle ultime 24 ore sono state somministrate quasi 50.000 dosi di vaccini. L'obiettivo, stando a quanto dichiarato dal Presidente, sarebbe quello di mantenere le 40.000 inoculazioni giornaliere. A rendere possibile il mantenimento di questo ritmo sarebbe la puntualità con cui stanno arrivando le dosi dopo mesi di ritardi e difficoltà. Questa mattina nei magazzini c'erano 220.000 dosi e domani, sabato 1 maggio, ci sarà la più grande distribuzione finora realizzata da inizio della campagna. Arriveranno infatti all'ospedale di Mestre 184.400 dosi, di cui 151.000 di AstraZeneca, 20.500 di Moderna e 12.800 di Johnson & Johnson. Abbiamo garanzie di forniture ora, ha spiegato Zaia. L'unico punto interrogativo per il futuro rimane su AstraZeneca, nonostante la consegna di domani sia molto importante. La tecnologia si mette ancora una volta al servizio della medicina, ma questa volta lo fa con effetti speciali. A partire da oggi, infatti, nelle pediatrie US3, degli speciali occhiali verranno messi a disposizione dei giovani pazienti del reparto di pediatria, così da distrarli durante le visite più fastidiose come ecografie, iniezioni e prelievi del sangue. Con un investimento totale di 30.000 euro, le pediatrie di Mestre, Venezia, Mirano, Dolo e Chioggia saranno dotate di questi utili strumenti, donati dalla ditta Apice di Cassier in provincia di Treviso, che ha caricato i dispositivi d'intesa con 5 primari. Il piccolo paziente avrà la possibilità di scegliere tra diversi mondi in cui immergersi, attraverso un semplice movimento del capo. E volendo, anche uno dei genitori potrà sintonizzarsi in contemporanea al figlio, entrando nella sua stessa realtà virtuale. Questa tecnologia, che ci è stata donata, ha commentato il direttore generale di US3, Edgardo Contato, è un'attrezzatura che riesce a distrarre i bambini da emozioni negative. La realtà virtuale aiuta i nostri specialisti a non trovarsi davanti ad un rifiuto del trattamento e a non dover ricorrere alla sedazione farmacologica, che in un numero non irrilevante di casi, finisce per essere l'unica soluzione possibile. Cambiamo ora argomento. Ieri, a 24 ore dall'arresto dei sette ex terroristi in Francia, Luigi Bergamin, ancora latitante, si è presentato di sua volontà di fronte al Palazzo di Giustizia di Parigi, assieme al suo avvocato, per costituirsi. Bergamin è considerato responsabile dell'omicidio di Lino Sabadin, macellaio di Santa Maria di Sala. Per il delitto, risalente al 16 febbraio del 1979, dovrà scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione. Dopo poche ore si è costituito anche Raffaele Ventura, un altro dei ricercati. È una buona notizia, vuol dire che ha capito, ha commentato Adriano Sabadin, figlio di Lino. Adesso potrà scontare le proprie colpe. Sull'operazione che ha visto la collaborazione tra Italia e Francia, Sabadin ha aggiunto «Io non ho mai avuto dubbi che alla fine la giustizia avrebbe fatto il suo corso». L'8 aprile, riferisce poi l'Ansa, per Bergamin sarebbe scattata la prescrizione, ma i termini sono stati interrotti dal magistrato di sorveglianza milanese Gloria Gambitta, su richiesta del PM Adriana Blasco, che ha dichiarato Bergamin delinquente abituale. Fra oggi e domani, a Palazzo di Giustizia di Parigi, la procuratrice Clarisse Taron presenterà a giudice le sue richieste sulla prosecuzione o meno dello stato di fermo per i sette ex terroristi italiani, per il quale è scattata la procedura di richiesta di estradizione. Entro 48 ore sarà eseminata anche la posizione di Luigi Bergamin. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi. Nei giorni scorsi è stato arrestato BNBMA, 31enne che dopo aver tentato di rubare degli indumenti per un valore di 100 euro, aveva cercato di fuggire colpendo più volte l'addetto alla sicurezza. Il fatto era avvenuto al centro le barche di Mestre. L'uomo dovrà rispondere di rapina impropria. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. like piir phrases Priyu todas. A presto. A presto. A presto. rais